La tanto attesa sentenza alla fine è arrivata. Il primo verdetto da parte del Tribunale Nazionale Federale ha visto le seguenti sanzioni. Picerno e Bitondo in Serie D. Picerno che è stato declassato all'ultimo posto in classifica nel campionato 19-20. Nella stessa stagione invece il Bitondo deve scontare nel campionato di Serie D 5 punti di penalizzazione. Quindi forse che lo scavalca in classifica e momentaneamente festeggia il salto di categoria in Serie C. Le altre decisioni sono le seguenti. Per il signor Anaclerio Michele anni 2 di squalifica, per De Santis Vingenzo anni 4 di inibizione oltre alla menda di 50.000 euro di multa, per De Santis Nicola anni 4 di inibizione, per l'attaccante Antonio Giulio Picci un anno e 8 mesi di squalifica, per Fiorendino Daniele un anno di squalifica, per Mondrone Giovanni un anno e 8 mesi di squalifica, per Turitto Onofrio anni 1 di squalifica, per il bomber del Bitondo Francesco Cosimo Patierno anni 1 e 8 mesi di squalifica, per l'amministratore delegato del Picerno Vincenzo Mitro sono 4 anni di inibizione, mentre è stato prosciolto da ogni incolpazione la società Potenza Calcio insieme ai signori Francesco Rossiello e Paolo Daucelli. Ricordiamo che queste sono richieste parzialmente accolte dal Tribunale federale nazionale dalla sezione disciplinare, per l'esito definitivo bisognerà aspettare il 7 settembre quando verranno decise definitivamente le sentenze